Cari amici di Vita Trentina, buona domenica. Oggi potremmo riprendere quanto abbiamo detto due giorni fa rispetto alla possibilità di seguire le messe domenicali in diretta televisiva o streaming, ma mi vorrei soffermare invece sulla parola che è al centro di un'altra di queste risposte creative nel tempo del coronavirus. La parola che ritroviamo ogni giorno nei calendari, li ha predisposti la diocesi anche in una forma destinata ai giovani e noi di Vita Trentina abbiamo edito quest'anno il calendario dei due piccoli pesci che è rivolto in particolare ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 10 anni. Le famiglie e i genitori hanno la possibilità di prenderlo in mano e leggerlo ogni giorno e soprattutto fare un'attività creativa disegnando i singoli fogli che poi vengono strappati e vanno a comporre un puzzle. Come dice la nostra disegnatrice Lorena Martinello è la possibilità di stare insieme attorno alla parola, cogliendo poi i dettagli, li precisiamo anche su questo numero di Vita Trentina, che caratterizzano ognuno di questi disegni domenicali. Questa è l'opportunità che vi segnaliamo oggi, fateci sapere come l'avete trovata e come l'avete usata. Buona domenica, ci risentiamo domani. Grazie a tutti.